la ripresa io devo fare la ripresa? come? basta il quadrato, già funziona no, guardate faccia la ripresa faccia la ripresa in controllo in controllo in controllo in controllo in controllo in controllo no, guardate io... E' lei, la futura DJ Che è di DJ La bomba è stai La stagia è stai In una prisa Andrea Su La stagia è stai 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 La stagia è stai